Termina oggi a mezzanotte la campagna elettorale in vista del ballottaggio a Chieti Avezzano. Dopo il primo turno i toni dello scontro politico si sono a dir poco accesi in entrambe le città. Nel capoluogo teatino la partita è tra Fabrizio Di Stefano, candidato del centrodestra, e Diego Ferrara, candidato del centrosinistra. In questi giorni i due si sono scambiati attacchi pesanti, con il primo che ha accusato l'avversario di essere manovrato dal senatore Luciano D'Alfonso e il secondo che ha minacciato di procedere per vie legali. Da domani però sospese tutte le ostilità. Ferrara, oltre a quello della propria coalizione, potrà contare anche sull'appoggio esterno del Movimento 5 Stelle, nonché su quello dell'intera coalizione di Paolo De Cesare, che siglato l'apparentamento diventerebbe vicesindaco in caso di vittoria del centrosinistra. Dall'altro lato del campo si è allargata anche la squadra di Di Stefano, che ha trovato l'intesa con l'assessore regionale Mauro Febbo. Seppur non si tratti di un apparentamento tecnico, i forzisti tetini ora appoggiano l'ex parlamentare, ricompattando il centrodestra. La stessa cosa però non è accaduta ad Avezzano. Nella Marsica infatti il centrodestra non ha raggiunto la quadra e Tiziano Genovesi correrà senza il sostegno di Forza Italia. Hanno proposto un accordo poltronistico, ha dichiarato il candidato sindaco del centrodestra. E la Lega, guidata da Luigi Deramo, lancia la carica in vista del voto di domenica e lunedì a Avezzano, ha un appuntamento con la storia, ha detto con Tony Epici, il coordinatore regionale del Carroccio. Rivale di Genovesi è Gianni Di Pangrazio, sostenuto da otto liste civiche, ma anche dalla coalizione di Mario Babbo, il candidato del centrosinistra a terzo classificato al primo turno, che ha annunciato in extremis l'appoggio a Di Pangrazio. Lo scrutinio che determinerà la nuova giunta comunale di Chieti a Avezzano inizierà a chiusura delle urne lunedì alle 15.